Ciao amici collezionisti, benvenuti in un altro video. In questo video apriremo questo box del 2015-2016, quindi dell'anno scorso. È un box speciale che è un cofanetto regalo con 8 bustine in omaggio. Ci sono 50 bustine al prezzo di 29,40 invece che 35. 8 bustine sono in omaggio. Lo andiamo ad aprire. Adesso andiamo a prendere il sigillo. Ecco qui. Troviamo praticamente le 8 bustine omaggio, più le altre da aprire. Adesso andiamo ad aprire tutte, rimettiamo qui dentro. Iniziamo subito con il salmaggio. 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 Abbiamo trovato Gasterini, allenatore del Genoa, Kappel del Genoa, Icaso del Torino, 2 del Noara, Iaglialo del Palermo e 2 del Cagliari. Continuiamo a spacchettare. Troviamo la caricatura della Juventus, 2 del Lanciano, Soriano della Samp, 2 del Noara, Haaland del Napoli e Evita e Anderson. Maglietta dell'Inter. Un cam del Genoa, verde del Frosinone, 2 del Modena, queste sono due squadre serie B, e due giocatori del Bari. Padrema Maglietta del Verona. Gakapel del Genoa, 2 della Sernita, 2 del Latina, una figurina doppia della serie C e Alex Ferrari del Bologna, Empoli, mezza formazione dell'Empoli, Santon dell'Inter, Ari Auto del Sassuolo, 2 del Livorno, Ballottelli del Milan e 2 dell'Ascoli. Mezza formazione del Verona, 2 del Travani, Bogo del Torino, 2 del Livorno, 2 del Padua e Abbate del Milan. Allora, Maglietta del Milan, Nagatomo dell'Inter, Kalinic della Fiorentina, Latina, Cacciatore del Chievo Verona e 2 del Brescia. Andiamo avanti con lo spacchettamento. Troviamo lo scudetto stoffato dell'Udinese. Poi troviamo Filippe Melo dell'Inter, troviamo 2 del Peschiara, 2 del Noire, 2 del Virtus Centella e Mighiaccio dell'Atalanta. Maglietta del Genoa, Rincon del Genoa, De Frel del Sassuolo, 2 del Noire, Lazzar del Palermo e Sturaro della Juventus. Poi abbiamo Kalinic della Fiorentina, il Vicenza, Cristotopoulos della Sampdoria, in Latina ci troviamo i due allenatori, uno del Latina e uno del Livorno che è Panuccia, il allenatore Poi abbiamo trovato il Vicenza, Zemali del Genoa, Biondini del Sassuolo, 2 del Modona, Cofi del Carpi e 2 del Lavellino. Quattro scudetti della Serie C, Perotti del Genoa, 2 della Sernitana, 2 del Livorno, 2 del Comun, i rossettini del Bologna, la maglietta del Chievo, la caricatura del Chievo, Pecolo del Sassuolo, 2 del Livorno, Valdifiori del Napoli e Chetira della Juventus. Lo scudetto del Genoa, 2 della Ternana, Patelli del Torino, 2 dell'Alinatori delle Spezia di Ternana, 2 del Crotone e Eli del Milan. Lo scudetto della Juventus, Zappacosta del Torino, Correa della Samp, 2 del Latina, Deinelli nel Chievo-Verona e 2 del Pescia. La figurina speciale Roma-Lazio, D'Ambrosio dell'Inter, 2 del Pesciara, 2 del Noir, 2 del Crotone e Masiello dell'Atalanta. Marranna del Chievo-Verona, Avelar del Torino, Politano del Sassuolo, 2 del Como, 2 formazioni da Serie C e Di Bala della Juventus. Maglietta del Frosinone, 2 del Vicenza, Terranova del Sassuolo, Gollini del Verona, 2 del Cesena e Onazzi, Zappata dell'Udinese, Lunghi del Sassuolo, 2 del Perugia, Letizia del Carpi e 2 del Lavellino, Provercelli, Costa del Genova, Greco del Verona, 2 del Livorno, 2 del Cesena e Denisse dell'Atalanta. La mezza formazione del Carpi, Di Natale dell'Udinese, Cassano della Samp, 2 allenatori Provercelli, Salernitana, Serie C e Diavara del Bologna. Maglietta del Carpi, 2 del Terlana, Sansone del Sassuolo, Liva Ià dell'Empoli, 2 del Crotone e Diego Lopez del Milan. Camus, sento, c'è il Stangelo, deve dare una caricatura del Napoli, l'Udinese, con Ertaux, Barretto del Samp, 2 del Modena, Mambacoco del Carpi e 2 del Bari. Poi abbiamo la maglietta del Sassuolo, Felipe dell'Udinese, Sala del Verona, 2 allenatori Cagliari e Cesena, 2 del Crotone e Bellini dell'Atalanta, allenatore Pioli, Romo dell'Udinese Hellander del Verona, Raphael del Verona, 2 del Crotone e Maximo Ralez dell'Atalanta. Scudetto del Sassuolo, Teles dell'Inter, Russo del Frosinone, Paredes con l'Empoli, Belek del Carpi, Eli del Milan, maglietta dell'Udinese, Capella del Genova, 2 del Provercelli, Baschets del Palermo, Gabriel del Napoli e da Costa del Bologna. Gli ultimi due pacchetti, Italia signori signori, due stemmi, Entella e Virtus, Ternana, Eter, Lago Falc della Roma, abbiamo trovato la fine figurina da Roma, Virtus Entella 2, Migliaccio, Maglietta della Roma, mezza squadra del Palermo, Sassuolo con consigli, Scurupsi dell'Empoli, 2 del Cesena e Maurizio. Grazie ragazzi di avermi seguito e di avermi seguito il mio canale, ciao al prossimo video.